Virtus Molfetta comanda, basket corato, tallona. Non cambia dunque l'eitmotiv del campionato di Serie C gol di pallacanestro dopo il settimo turno del girona di ritorno. La capolista supera un altro scoglio vincendo a Castellaneta mentre la prima inseguitrice si aggiudica la stracittadina contro Nuova Matteotti. Neppure la consueta carica casalinga di Valentino rallenta la marcia di Virtus Molfetta Corsara con il punteggio di 79-70. Senza lo squalificato Bullion e con l'iso solo a referto. La prima della classe manda ben quattro uomini in doppia cifra su tutti i delic con 27 punti. Stesso poker per i ragazzi di Polucci che vanno all'intervallo lungo in parità e restano in partita con i canesseri di Vassiliev autore di 26 punti. Nessuna sorpresa nel derby coratino che il più quotato basket corato si aggiudica per 75-68 con una partenza lanciata e un ottimo apporto di 1D autore di 29 punti. Non bastano a Nuova Matteotti invece i 23 di Holwitz e domenica c'è lo scontro diretto a Molfetta che in caso di affermazione dei padroni di casa potrebbe loro garantire la certezza del primo posto. In terza posizione c'è Bieste in solitaria dopo la vittoria di Ossuni per 76-65 di fronte due terzetti da complessivi 53 punti Dusels, Diaz, Zustovic per i garganici, Maximovic, Razic e Holwitz per la cessistica. Un successo che vale il distacco da Mola Nubasca 2012 arenatasi a Monteroni sul 72-63 all'occo nel segno a 25 per gli ospiti ma a vincere nuova pallacanestro con 22 punti di Kelmelis. Nella colonna di destra intanto si muove pure New Virtus Messagne che passa in casa di New JT Trani ancora al palo ma competitiva sino al termine. La squadra di Brai prevale per 76-71 con 60 punti del trio Cardillo Gallo-Galantino rinviata per impraticabilità del campo Adria-Bari-Liberta-Saltamura ed in serata. E in programma invece recupero fra Trani e Nuova Matteotti Corato nel prossimo turno che comincia sabato con Mola Trani. C'è in scaletta anche un interessantissimo Vieste-Bari.